Ciao a tutti, io sono Cesa e oggi andremo a vedere in modo approfondito come funziona Canva. Canva è un software online estremamente semplice per creare tantissime tipologie di immagini, post, immagini di copertina, cose del genere. Ha tantissime funzioni dentro, tutte le impostazioni, tutte le dimensioni sono già preimpostate, eccetera, ed è veramente, veramente semplice da utilizzare. Quindi se vi servono delle belle immagini per i social, modificare delle immagini, fare dei banner, fare delle locandine, eccetera, eccetera, Canva è sicuramente il software perfetto per fare questa tipologia di cose. È assolutamente semplicissimo da utilizzare, chiunque può imparare a utilizzarlo, l'obiettivo dentro la fine di questo video è avervi insegnato come si utilizza nel modo più completo possibile. Non è importante se non avete la capacità grafica visiva di creare cose all'interno di Canva, ci sono veramente tantissimi modelli già pronti, voi dovete soltanto inserire le vostre immagini, i vostri testi e l'immagine è finita. Questo è un page di Canva, come vedete è disponibile anche in italiano, non c'è alcunissimo problema a livello di lingua, nel caso non ve lo faceste vedere in italiano, cosa rara, ma comunque può succedere, qui in basso a destra potete selezionare la lingua preferita. Per accedere a Canva bisogna creare un account, l'account è assolutamente gratuito, ci sono varie funzioni sbloccabili solo con gli account pro pagamento. Facciamo una velocissima carrellata di come funziona. Tutto quello che vedremo nel video di oggi si può fare col pacchetto gratis, quindi 0 euro assolutamente, nessuna spesa, assolutamente nessun altro dato oltre la mail da inserire. Come vedete ci offrono più di 8.000 modelli preimpostati, 100 tipi di progetti, dopo andremo a vedere cosa sono, centinaia di migliaia di foto e grafiche gratuite. Nel 90% dei casi questo è quello che va bene pressoché a chiunque. Nella versione Pro, che come vediamo costa semplicemente 9 euro al mese, quindi è una spesa molto ridicola, i modelli anziché 8.000 sono 60.000, ci sono 60 milioni di immagini, tra cui immagini premium, dopo vedremo cosa sono le immagini premium. Ma comunque per quello che la maggior parte delle persone devono fare, ovvero creare un po' di immagini per i social, creare un po' di volantini, creare magari la propria immagine di copertina un po' più bella, eccetera, il pacchetto gratis è più che sufficiente. Ora torniamo alla home page. Come abbiamo già detto, se non avete un account vi dovete iscrivere. Nel mio caso io ho già un account, quindi farò accedi. Io accedo con Google, voi accedete o registratevi come preferite. E questa è l'interfaccia basilare di Canva. La prima volta, se avete appena creato l'account, probabilmente vi farà qualche domanda, ma chiede quali sono i social media che usate di più, per che scopo userete le immagini, se avete temi particolari, se siete in una nicchia particolare e cose del genere. L'unico scopo di queste domande è personalizzarvi questa pagina in modo che vi faccia vedere prima quello che vi serve. Nella barra qua sotto vediamo i tuoi progetti, che andremo a vedere dopo. Praticamente queste sono prove che avevo già fatto, comunque momenti in cui avevo spiegato ai miei clienti come funziona Canva in maniera e in modo semplice. Come vediamo, crea ciò che vuoi, qua crea un progetto, ci sono alcuni progetti con dimensioni già preimpostate, adesso andiamo a vedere. Qua sotto vengono salvati gli ultimi progetti su cui abbiamo lavorato, come vedete ce ne sono alcuni di mesi fa perché avevo fatto delle prove con dei clienti la prima volta che glielo avevo consigliato. Io non lo utilizzo tantissimo, io principalmente per quello che facciamo noi in Pixel Brain, utilizziamo Photoshop, InDesign, Illustrator a seconda dei casi, questo comunque per chi si gestisce in modo autonomo i social è sicuramente uno strumento fantastico ed è soprattutto semplice oltre che gratis. Ora, quello che dovete decidere prima di partire in questo momento è cosa dovete fare, quindi dovete fare un post di Facebook, di Pinterest, cosa dovete fare. Se non li trovate qui quello che dovete fare, potete tranquillamente cercarlo qua sopra, quindi copertina Facebook, vedete ho fatto delle prove prima per vedere cosa dirvi adesso e ce ne sono veramente tantissime. Quello che potete fare, per esempio, è anche le presentazioni, le vecchie presentazioni in PowerPoint si possono fare anche all'interno di Canva. Come vedete copertina, poster, post di Instagram, video di Facebook, perché un po' può anche elaborare dei video, ma non ne parleremo tanto in questo video. Ce ne sono veramente, veramente tanti, oppure potete scegliere dimensioni personalizzate. Scegliendo dimensioni personalizzate potete scegliere la larghezza e l'altezza dell'immagine che vi serve in pixel, oppure se la dovete stampare in pollici, millimetri, centimetri, eccetera. Nel nostro caso, per questo primo esempio, andremo a creare un'immagine che va bene sia su Facebook che su Instagram. Sceglieremo infatti un'immagine quadrata. Un'immagine quadrata si presta molto bene su Instagram, anzi Instagram è nato per le immagini quadrate e ultimamente anche su Facebook comunque se ne vedono tante, vanno assolutamente bene, sono ben visibili da smartphone, funzionano molto bene e sono molto belle da vedere. Ora qui abbiamo varie strade, ovviamente possiamo cliccare qui direttamente post di Instagram, come vedete 1080x1080 pixel, che è la dimensione standard di un'immagine su Instagram, oppure si può fare e creare un progetto qua sopra, insomma ci sono vari modi per creare, per iniziare a creare la nostra immagine. Ora velocemente andiamo per esempio a creare un post di Instagram. Come vedete la prima cosa che ci farà ci creerà il nostro riquadro bianco, quindi senza alcun contenuto. Però già qua sulla destra possiamo aggiungere vari template già fatti. Adesso per esempio siamo in periodo di coronavirus, qua da addirittura di template già fatti per il contenuto, comunque le regole, i buoni usi e i costumi da mantenere durante questo periodo. E ci sono sotto tantissime veramente. Questo è il 6.000 che vi davate prima, ce ne sono veramente un'infinità. Qua sopra nel modulo di ricerca potete scrivere per esempio il vostro settore, vedere qualche modello già creato, qualcosa da cui prendere ispirazione, qualcosa anche da importare, magari da fare anche volendo uguale, nessuno ve lo vieta. Cerchiamo per esempio caffè. Come vedete ci sono già tantissimi modelli. Qua ovviamente ci consiglia di accedere a modelli pro dove ci sono oltre 60.000 modelli. Ma ricordatevi che comunque nella versione gratuita ne avete 8.000 e come ho già detto nella maggior parte dei casi sono più che sufficienti. Ne scegliamo uno a caso, tipo questo. Come vedete qui compare la scritta sotto gratis. Non so se in questo i risultati ne compagliono di pagamento. Comunque di solito c'è una stellina qui in basso a destra e viene scritto premium. Ma non credo comunque che ne dia al momento qua come risultati. Ora lui in automatico ha importato tutto quello che era nel modello per creare questa immagine. Quindi un'immagine di sfondo, un rettangolo e le varie scritte. Per andare a modificare le scritte basta entrare nel quadro della scritta, fare un doppio clic. Lo potete modificare come se fosse un normalissimo editor di testo. Questo uno che vedete qui, voi non lo vedete, in realtà è un software per la correzione automatica dei testi. Io scrivo tante email, quindi per evitare di fare figuracce la utilizzo. In questo caso lui trova un errore, probabilmente non gli piace la parola moccacina, è un dizionario un po' limitato. Ma non è questo il video. Se non vi piace questo modello, semplicemente qui da sinistra potete cliccare e modificare. Lui in automatico caricherà un altro modello. Torniamo qui, andiamo di nuovo a modificare il nostro testo, personalizziamolo un attimo, scriviamo tipo bar del borgo, non lo so. E come vedete possiamo scrivere qualsiasi cosa noi vogliamo. Si può ridimensionare il testo selezionato, selezionando il testo, comunque selezionando vari oggetti, varie cose, all'interno di Canva compare una diversa barra di opzioni qua sopra. Selezionando un testo, ovviamente queste sono tutte le opzioni inerenti al testo, quindi font, ce ne sono veramente tanti. Quelli che vedete con questa coroncina qui dorata sono i font premium, quindi utilizzabili solo e unicamente se avete l'account premium. In ogni caso ce ne sono veramente tantissimi per tutti i gusti, sono tutti font standard che si utilizzano, ce ne sono veramente veramente tanti. Se avete un vostro font del vostro brand personalizzato lo potete caricare, ma anche qui è una funzione solo per l'account premium. Ora io lascerò questo, tanto non è questo lo scopo del video. Qui di fianco potete scegliere la dimensione, quindi potete ingrossare o diminuire la dimensione del carattere, molto semplicemente il colore del carattere. Come vedete basterà cliccare qui, oppure se il vostro colore che volete scegliere non è tra questi, fare nuovo colore. E qui avete la tavolozza con tutti i colori che potete impostare sul web. In questo caso il testo bianco va benissimo, potete fare i testi incorsivi, potete sottolineare i testi, il lineamento, eccetera, eccetera. Classiche modifiche che potete fare in qualsiasi editor di testo. Selezionando questo riquadro come vedete in realtà sono più oggetti racchiusi, dopo pian piano adesso man mano che guarderete questo video capirete un po' di più di cosa sono gli oggetti, eccetera. Come vedete comunque selezionando crea questi quattro puntini agli angoli dove io posso ridimensionare. Se clicco posso spostare, come vedete mi dà anche delle linee guida per essere sicuro di allinearlo al centro. Al di sotto c'è questo pallino qui che serve a ruotare come vogliamo il nostro testo. Nel caso vogliate tornare indietro, avete sbagliato, eccetera, qua in alto a sinistra c'è questa freccina, potete fare anche CTRL-Z dalla tastiera volendo, comunque questa freccia torna indietro. Qua come vedete tutte le modifiche sono state salvate, Canva salva, ogni modifica che fate Canva la salva. Quindi non dovete andare a cercare, eh come faccio, voglio salvare il file, come devo uscire, non lo posso finire adesso. Tutto viene salvato in automatico e viene messo all'interno del vostro account. Il riquadro bianco in questo caso è un oggetto, poi dopo vedremo come funzionano. Se si clicchiamo, stessa cosa, si può ridimensionare, si può ruotare, eccetera, eccetera. Come vedete è molto molto semplice. L'immagine di sfondo, la possiamo ovviamente cambiare quando vogliamo, proviamo a fare un doppio clic sull'immagine di sfondo e come vedete intanto vediamo che l'immagine in realtà è più grande. È stata già ritagliata per essere in questo modo qua. Come vedete potete ridimensionare, potete ingrandirla, eccetera, eccetera. Ora mettiamo caso che a voi non piaccia questa foto. In questo caso ho premuto ESC per uscire da quella modifica. Oppure basterebbe fare qua, come vedete, fatto. Non mi piace questa foto, cosa posso fare? Nessun problema. Qua a sinistra noi per adesso siamo stati solo in modelli. Come vedete ci sono tantissime impostazioni da andare a creare. Usiamo per esempio foto e come vedete ci sono altre immagini. Come vedete come prima tutte le immagini compare da scritta gratis, specialmente qua senza aver fatto alcuna ricerca. Se noi cerchiamo per esempio caffè, come vedete compariranno questa tipologia di foto, anche foto utilizzabili solo, unicamente nella versione Pro. Oppure se volete utilizzare questa immagine specifica, qui ve lo dice anche nella nuvoletta, la potete comprare in questo momento qui per un euro. Quindi per un euro potete utilizzare questa foto. Tuttavia per vedere come sta nella vostra immagine la potete anche provare a utilizzare senza acquistarla. Basterà trascinarla e come vedete lui l'adatta. Ovviamente ci saranno queste linee che servono a Canva perché le persone non si approfittino di questa cosa e utilizzino delle immagini senza comprarle. Qui c'è il tasto rimuovimi watermark. Come vedete il watermark sono queste linee o questa scritta Canva che c'è al centro. Nel caso voi vogliate utilizzare questa immagine o pagate l'abbonamento a 9 euro al mese o l'acquistate a 1 euro. Ora noi non ci serve anche perché comunque Canva offre tantissime immagini gratuite in pressoché ogni nicchia. E oltre a questo adesso vediamo come potete caricare le vostre immagini. Ecco vedete. Ora ovviamente sto inserendo immagini un po' a caso, non è molto legimide, si potrebbe fare di molto molto meglio. Adesso magari la prossima immagine la creiamo con un senso logico. Per trascinare le immagini come avete visto se le trascinate qui sul board lui in automatico ve le mette di sfondo. Se invece vi spostate un po' di più lui semplicemente la aggiunge, quindi è un'altra immagine all'interno della vostra grafica. Ne potete aggiungere ovviamente quante volete, non c'è alcun limite. Per eliminare qualcosa che avete inserito che non volete più ci cliccate sopra e o cliccate qui sul cestino oppure il tasto Canc. Quindi molto semplicemente Canc, Canc eccetera. Terzo metodo, volendo potreste anche utilizzare il tasto destro. Come vedete vi dà un po' di opzioni, copy, incolle, elimina, sposta. Insomma un po' di funzioni classiche. Anche sostituisci sfondo nel caso la viate trascinata male. Perfetto. Se invece volete caricare una vostra immagine, ora eravamo in foto, andiamo qui sotto e andiamo in caricamenti. In caricamenti potete caricare tante cose. Come vedete io in passato avevo già fatto delle prove, ci sono già delle immagini. Come si fa a caricare delle foto o volendo anche dei video, ma come ho detto non parleremo tanto di video in questo video. Per caricare un'immagine cliccate qui su carica un'altra immagine o video. Vi aprirà il vostro computer e le vostre cartelle e potete andare a scegliere la foto che volete caricare. In alternativa potreste anche volendo trascinare l'immagine all'interno di Canva. Quindi ora vado per esempio a prendere una foto. Io ho due desktop, quindi ce l'ho nell'altro desktop in questo momento, ma non cambia assolutamente niente. Vediamo una foto che posso utilizzare che ho su questo computer. Prendiamo questa che è una foto per un lavoro di un cliente, ma non è un problema. Come vedete trascinandola qua all'interno della vostra finestra, trascina per caricare un file. L'immagine viene caricata e da questo momento voi, esattamente come facevate prima, con tutte le immagini che caricate qui, che vengono oltretutto salvate nel vostro account, quindi le potreste tranquillamente riutilizzare in futuro, molto utile se per esempio volete caricare un logo che dovete utilizzare in tutte le vostre immagini. Come prima basterà prendere la vostra immagine e trascinarla. Molto molto semplice e basilare. Come sempre, se non ci è piaciuto quello che abbiamo fatto, possiamo tornare in modelli. E scegliere un altro modello di qualsiasi nicchia noi vogliamo. Come vedete ce ne sono più di una. Andiamo a vedere altri tipi di modelli. Per esempio, in questo modello qui ci sono svariate foto. Ora andiamo a inserire le immagini nostre all'interno di queste caselle, perché voglio farvi vedere un'altra cosa ancora. Ora non ci servono immagini particolari, scegliamo qualche immagine di qualche città. Come vedete in questo template in automatico inserisce il bianco e nero. Ora lo andiamo a togliere, vi faccio vedere come. Adesso inseriamo proprio immagini abbastanza casuali, tanto non è un problema. Come vedete ci sono dei riquadri di questa galleria, di questo collage di foto. Se cliccate ci sono ovviamente tutte le opzioni qua sopra, esattamente come vedevamo prima nei testi. In questo caso sicuramente vedrete che come effetti o come filtro, esatto c'era probabilmente un bianco o nero, o comunque uno stritto, o comunque uno di questi. Basterà mettere nessuno e le immagini riprenderanno i loro colori originali. Ora magari era stato fatto in un altro modo, esatto per esempio in questo caso, su regola, dove ci sono diciamo le cose un po' più avanzate per modificare un po' la foto, ma anche se non sono super avanzate, c'è la saturazione meno 100. Quindi in realtà è questo che rendeva veramente l'immagine in bianco e nero. Cliccando qua sopra c'è ripristina, come vedete tutto torna a zero e tutte le immagini tornano come erano in origine. E come vedete è molto molto semplice. Potete volendo ridimensionare queste caselle, ovviamente fatelo mantenendo le immagini, belle o comunque ridimensionate come vi servono. Come prima per lo sfondo stesso sistema, facendo un doppio clic, voi andate a modificare solo la singola immagine all'interno di questo riquadro. Vedete cliccando fuori, come ho fatto adesso, lui applica l'impostazione che avete fatto. Se non volete cliccare fuori, potete fare fatto qua in alto a sinistra, ma è molto più comodo cliccare semplicemente al di fuori della nostra immagine e lui applica quello che abbiamo fatto. Stessa cosa si può fare con questa, se per esempio io volessi inquadrare questa torre. Molto molto semplice. All'interno qua ce n'è veramente per ogni gusto. Ora però andiamo a creare una da zero, così andiamo a vedere un po' di funzioni aggiuntive. Innanzitutto torniamo in home page. Come vedete qui al di sotto sta caricando adesso l'anteprima della nostra immagine. Il nostro progetto è stato salvato. Il nome lo possiamo cambiare da qui o da dentro l'immagine, adesso lo facciamo nella prossima immagine. Qui per esempio è la bar del borgo, mi pare che avevo scritto. Si può organizzare molto semplicemente tutti i propri lavori. Ora andiamo a creare qualcos'altro. Cosa andiamo a creare a livello di dimensioni non è importante per il nostro scopo di questo video, perché tanto qualsiasi sia la dimensione della vostra immagine che dovete creare, le impostazioni o comunque tutto quello che potete fare all'interno di Canva sono assolutamente le stesse. Ora se noi non volessimo partire da un template già fatto, possiamo ovviamente inserire manualmente uno alla volta tutti i vari elementi. Possiamo inserire volendo delle foto, in questo modo. Come vedete in automatico se mi avvicino comunque al bordo, lui riconosce che io la voglio mettere come sfondo. Oppure se mi sposto un po', lui semplicemente la inserisce dentro come immagine normalissima. Ora la cancelliamo. Andiamo prima a vedere elementi. All'interno di elementi anche qui troviamo centinaia, anzi migliaia, di cose che possiamo inserire. Qui si trovano tutte le icone, tutte forme particolari, le griglie per le immagini già preimpostate. Adesso andiamo a vedere come funzionano. Ci sono degli adesivi, come vedete, animati, perché in realtà noi possiamo creare delle storie di Instagram fatte a video e inserire già da qui gli adesivi. Quando esporteremo il file, semplicemente esporteremo un file video. Come vedete, grafici, gradienti, quindi sfumature, linee, c'è veramente ogni cosa. Ogni cosa sono in un certo senso le vecchie clip art. Non so quanti anni avete, io le ho vissute al limite, però nel periodo delle clip art, quindi abbastanza in realtà gli albori di internet, almeno per quello che era l'internet con le immagini, le clip art erano diventate un must. Per prendere uno o qualsiasi di questi oggetti basterà prenderlo, trascinarlo e in realtà ci potrete lavorare sopra esattamente come lavorate sulle immagini. Ora ne inseriamo più di uno così vi faccio vedere come funziona il fatto che un'immagine o una foto, un testo sia sopra o sotto la precedente. Inseriamo per esempio quella e inseriamo, non lo so, una cosa del genere. Come vedete ora una è davanti e una è dietro. Ma se io volessi mettere questa pianta qui sulla destra dietro di loro, cosa devo fare? Ci sono vari metodi. Uno di questi può essere tasto destro sposta in secondo piano. Ok. Nel caso ne avessi più di una dovresti gestire in modo migliore, ovviamente cosa mettere davanti e cosa mettere dietro. Mettiamo qualcosa di contrastato in modo che non ci confondiamo, per esempio una cosa del genere gialla. Ah, la maggior parte delle clip art, aggiungo, potete cambiare i colori. Come vedete questi ci sono due colori. Questo che è un po' sgranato ed è un arancione, un po' più chiaro, è questo che è più un bronzo. Ok, non so esattamente come chiamare i colori nella vita reale, comunque sono due colori leggermente diversi. E li ritrovate qua sopra. Vedete, potete selezionare il colore e lui va a cambiare il primo e il secondo colore. Ora mettiamo due colori molto diversi da quelli che ci sono già nell'immagine. Quindi stiamo per esempio su dei verdi, in modo che riusciamo a capire bene quello che vi voglio spiegare in questo momento. Come prima, qui ovviamente c'è per spostare, per ruotare, eccetera, eccetera. Ora, se io, come ho fatto prima, facessi il tasto destro, sposta in secondo piano, lui la metterebbe dietro a tutto. Torniamo un attimo indietro. Se invece faccio sposta indietro, lui me la mette indietro di solo un livello. Come vedete, questa immagine qui è ancora dietro. Si sono attivate, ovviamente non essendo più in primo piano, si sono attivate anche le funzioni per portare questa immagine in alto. Quindi un oggetto alla volta potete spostare avanti e indietro i vostri oggetti. Per esempio, in questo momento riportiamo questa pianta di nuovo in primo piano. Cioè, o sposta in primo piano, oppure un livello alla volta, se non sapete dove la volete esattamente mettere, la potete portare davanti. Come vedete, è estremamente semplice. Oltre che cliccare il tasto destro e selezionare da qui, potete anche utilizzare questo tasto qui, posizione, che oltre volendo ad allineare la vostra immagine perfettamente al centro o a destra per i test, insomma, è molto molto intuitivo come vedete spostare le cose, compare anche all'indietro e inoltre. Non è stato tradotto probabilmente bene, però in questo caso comunque inoltre vuol dire sposta avanti. Molto molto semplice. Mettiamo ora il caso che voi aveste tantissimi elementi nella vostra grafica perché state creando qualcosa di complesso. Può capitare che vi sbagliate a spostare qualcosa e dite no, cavolo, non volevo spostarlo. Oltre a poter tornare indietro, una delle cose che potete fare è cliccare su questo lucchetto che c'è qua. Come vedete blocca. Io ho selezionato questa immagine qui, faccio blocca. Questa immagine rimane bloccata e se io vado a provare a spostarla, non me lo fa fare. Quindi per esempio voi una volta che avete creato il vostro sfondo, il vostro template, o comunque avete messo degli oggetti che ok, lì la posizione giusta non li muove più, li potete bloccare in questo modo. Non è obbligatorio, ovviamente è soltanto una funzione in più. Per sbloccarlo basterà selezionare e fare sblocca. Molto molto semplice. Ora eliminiamo tutto, potete eliminare gli elementi uno alla volta, oppure anche selezionarli tutti insieme. Selezionandoli tutti insieme potete anche spostarli tutti insieme. Stiamo sempre qui in elementi e andiamo a vedere un'altra cosa interessante, ovvero le griglie. Qui potete fare anche vedi tutto per vederne molte di più. Questi praticamente sono dei template, dei collage già fatti. Come vedete ce ne sono anche qui veramente, veramente un'infinita, sicuramente quello che volete. Qui lo trovate. Prendiamo per esempio questo. Lui in automatico lo ridimensiona a pagina intera, noi ovviamente se volessimo lo potremmo ridurre. Come vedete si adatta anche nelle proporzioni a seconda di quello che vogliamo fare. All'interno di questi rettangoli noi possiamo inserire le nostre immagini. Quindi torniamo in foto, facciamo qualcosa a tema caffè, anche perché è molto presto la mattina e la voglia di un caffè un po' ce l'ho. Inventiamoci qualcosa inerente al caffè. Possiamo mettere per esempio un'immagine del genere qua. Come vedete la spostiamo. A che tema la facciamo? Questa è bellissima per esempio. Ci sta anche molto bene un testo sopra. Poi, poi, poi. Sto facendo probabilmente un po' troppo il difficile per un video del genere, ma va bene lo stesso perché tanto il video è mio. Questa è un'immagine pro, prendiamone una gratuita per farvi vedere comunque bene. Ecco, un bel chicco di caffè bello grande. Facciamo una cosa del genere, non mi piace. Facciamocela andare bene. E a questo punto noi abbiamo messo le nostre immagini. Questo è un po' il nostro template di sfondo. Ora vogliamo aggiungere ovviamente dei testi. Qui, sempre a sinistra, troviamo anche il menu testo. Ci sono vari modi di aggiungere il testo. Potete aggiungere, scegliendo uno di questi qua, dei testi singoli. Quindi semplicemente la scritta base. Quindi una scritta da sola, diciamo. Qua mettiamo per esempio il sito. Naturalmente io sul mio sito web non vendo caffè. Quindi non venite a cercare caffè, ma va bene. Oppure, oltre che inserire semplicemente le scritte, come vedete, è molto semplice. Trascini, scrivi quello che vuoi, le dimensioni, i cambi font. È estremamente, estremamente basilare. Qui al di sotto troviamo queste combinazioni di carattere. Sono dei template già fatti con vari caratteri per metterci varie scritte, eccetera. Per esempio questo possiamo già prendere. Casa, dolce, casa. Non andrò a modificare i testi, ma come vedete è estremamente semplice da inserire. E in qualsiasi momento vi ricordo che potete andare a modificare tutto quello che volete. Per esempio a me questa immagine qui non mi piace veramente. Andiamo a sceglierne un'altra. Vediamo una cosa del genere. La ridimensioniamo come prima, eccetera, eccetera. Potete spostare tutto quello che vi serve. Non mi piace neanche questa. Non so, sono un po' difficile. Ok, dai, adesso lascio questa e basta. Molto semplice e intuitivo, come avete visto. Casa, dolce, casa. Casa, non lo so, caffè italiano. Molto, molto semplice. Potete aggiungere elementi. Qua eravamo in grigi, ovviamente. Basta cliccare qua sulle X e torneremo in elementi normali. Cerchiamo, per esempio, se ci sono delle cornici che possono starci bene. Ci sono varie tipologie di cornici. Queste sono cornici all'interno del quale potete mettere un'immagine. Faccio, per esempio, un esempio veloce finché siamo qui. Come vedete questa è una A, ma c'è questa immagine classica di Canva dove voi potete trascinare dentro una foto. Quindi, per esempio, inseriamo quella foto qui. Come vedete, rimane all'interno della A. La andiamo a cancellare perché non è quello che volevo inserire in questo momento. Vediamo elementi monolinea. Vediamo di inserire una cosa del genere. Come vedete questa è una grafica. Quindi la possiamo anche questa colorare, come vogliamo. Qua sotto suggerisce dei colori addirittura simili a quelli delle foto. Per esempio, ci potrebbe stare una cosa del genere. Andiamo a cancellare questo testo. Mettiamo che non vi piaccia più. Cancelliamo tutto. Ok, ho cancellato troppo. Ovviamente, in qualsiasi momento, potete tornare indietro. No, questo lo voglio. Questo qui lo voglio cancellare. E all'interno di questo voglio inserire, per esempio, caffè italiano. Ora, i grammaticali mi diranno che avevo scritto male. Anche qui, come colori, vedete, se selezionate colore e avete già inserito le immagini, vi dà anche dei suggerimenti delle tavolozze di colore con i colori delle immagini che avete inserito. Andiamo a inserire. Cambiamo il colore anche di questa, ovviamente. Ora vi faccio vedere un'altra cosa ancora in più. Come vedete, in questo caso sono due elementi separati. Uno è il testo e uno è il riquadro. Quindi, se li andate a spostare, o li selezionate entrambi con premendo Shift, come vedete li ha selezionati entrambi, mentre cliccavo, e li potete spostare entrambi. Oppure, una volta che li avete selezionati entrambi, quindi selezionate questo, premete Shift, che è il tasto sopra-contro con la freccina che va verso l'alto, seleziono anche l'altro, quindi li ha selezionati entrambi, faccio raggruppa, da questo momento, come vedete, innanzitutto il rintangolo è diventato solo uno, e io potrò spostare tutto insieme, mantenendo comunque la capacità di modificare i singoli elementi. Quindi qui posso modificare il testo. Ora abbiamo creato le nostre immagini, ok, ma come si scaricano da questo sito? Non lo so, forse non l'avete visto fino adesso, ma qui in alto a destra c'è questo punzante gigante con scritto scarica. Il condividi non è un condividi sul social, potete condividere con altri utenti Canva, se avete per esempio dei collaboratori, a cui volete far accedere sopra questo file, gli potete aggiungere qui la loro indirizzo email, poi loro dopo potranno arrivare su Canva e modificare questa immagine come l'avete creata voi. Per scaricarla andiamo qua su scarica, potete fare scarica direttamente, vedete, lui consiglia di scaricarlo in formato PNG, che è un ottimo formato per mantenere la qualità. volendo il PNG supporta anche lo sfondo trasparente, sui social è abbastanza, anzi assolutamente inutile, dipende da cosa dovete fare, ovviamente in Canva potete creare tantissime cose, non devono andare necessariamente sui social, comunque come vedete qui sotto è attivabile sfondo trasparente, ma è attivabile solo nella versione premium. Come vedete c'è PNG, cliccando qui c'è JPEG, molto utilizzato anche questo, vi consiglio ovviamente se dovete condividere sui social, io vi consiglio il PNG, ma nel caso facciate il JPEG lo alzate al massimo, in massimo della versione gratuita è 80%, se no vi chiede di passare alla versione PRO di Canva, o anche loro consigliano PNG, utilizzate il PNG. Potete scaricare dei PDF, potete scaricare dei video, delle GIF, delle animazioni sono solo per la versione premium. Ora scarichiamo il nostro PNG, clicchiamo qui, facciamo su scarica, lui elaborerà un attimino l'immagine, voi la potrete scaricare, fate salva, e l'immagine ora è sul vostro computer. Come vedete è tutto estremamente molto semplice. Ora parliamo molto molto velocemente di come aggiungere animazione, e di come poi dopo caricare queste animazioni sui social. Torniamo velocemente negli elementi, andiamo a vedere che qui c'erano anche delle animazioni, vedete adesivi, quale chiama, come per esempio sono su Instagram. Proviamo, vediamo cosa possiamo fare. Allora, qui prima avevamo raggruppato questo, questi due oggetti. Ovviamente per spostarli, io in questo caso vorrei eliminare solo, unicamente la cornice, basterà fare annulla l'aggruppamento, e i due file saranno due file distinti, e potrò cancellarne solo una. Mi piace per esempio poter fare una cosa del genere. Qui come sempre, ovviamente, potete ridimensionare e ruotare tutto come volete. Ora le proporzioni non sono perfette. Nel caso degli adesivi, ovviamente, le proporzioni non le potete cambiare, nel caso degli adesivi animati, scusate, gli adesivi normali, sì. Almeno al momento non è possibile cambiare la proporzione. Come vedete abbiamo aggiunto molto velocemente un'animazione. Per scaricarlo, se fate scarica, ovviamente lui in automatico consiglia video, perché ovviamente c'è un'animazione. All'interno dei file PNG o dei file JPEG non ci sono le animazioni. All'interno del PDF, in teoria, no, c'è un modo per metterci, ma non credo che Canva supporti questa cosa. In ogni caso, noi lo dobbiamo condividere sui social, quindi faremo video. Facciamo scarica, elaborerà un attimo l'immagine, magari nel caso del video ci potrebbe mettere un attimino in più, comunque non è mai una cosa super lunga o complessa, magari un po' più lunga se inserite veramente dei veri e propri video, ma comunque molto molto velocemente. Qui ancora una volta ci chiede se vogliamo provare Canva Pro per 30 giorni, eccetera, noi non ci serve. salviamo il nostro file, lo andiamo ad aprire e come vedete, eccolo qua, abbiamo così il nostro video da condividere sui social. La stessa cosa ovviamente si può fare con le storie, ovviamente Canva supporta anche come proporzione, la proporzione delle storie di Instagram. Qui per esempio cerchiamo storie, vediamo storie di Facebook, storie di Instagram, la tua storia, come vedete, qua in realtà, se selezionate uno, se selezionate l'altro, non vi cambia in realtà niente, perché l'unica cosa che è nata a selezionare adesso qui è la dimensione. Come vedete, la dimensione della storia di Instagram standard, è un video in verticale, quindi 1080x1920. Come vedete, tutte queste tre opzioni, anche quella di WhatsApp, sono assolutamente uguali. Quindi storie di Instagram. Come prima, qua ci fa volendo selezionare dei template già fatti, possiamo andare a selezionarlo oppure creare il nostro modello vuoto. Ora andiamo a ne aprire uno già con un minimo di template dentro. Ancora una volta, qua a sinistra, possiamo molto velocemente cambiare di nuovo modello se questo qui che abbiamo scelto non ci aggrada abbastanza. Ora, cosa ancora più avanzata, ma in realtà non è super avanzata, qui sotto anche prima c'era, lo evitate di farvelo vedere per non confondervi all'inizio, c'è aggiungi una nuova pagina. Nel caso voi dobbiate creare, per esempio, una serie di immagini tutti uguali, molto simili tra di loro e voi abbiate già fatto la prima, mettiamo caso che questa è la nostra prima storia che dobbiamo pubblicare. Subito dopo questa, ne dobbiamo pubblicare un'altra con lo stesso stile. Ci sono vari metodi, potremmo o duplicare questo file qui da i miei progetti in un page, dopo magari vediamo velocemente come si fa, oppure possiamo aggiungere una nuova pagina. Ora, se fate aggiungi una nuova pagina, crea ovviamente una pagina vuota, quindi dovreste reimportare il template, eccetera, ma se il template l'avete personalizzato voi, ovviamente non è che potete andare a prenderlo qua. Torniamo indietro in modo che elimini questa pagina. Qui in alto a destra si possono fare varie cose. Innanzitutto c'è aggiungi note in modo che, per esempio, se più di una persona lavorano sullo stesso progetto si possono leggere le note che sono state segnate a vicenda. Qua si può fare aggiungere una nuova pagina che è lo stesso testo. Qua si può fare questo più qua che aggiungi nuova pagina che è assolutamente uguale al tasto che c'è qui sotto. Oppure duplica e in questo caso lui lo chiama copia. Copia pagina. In questo modo, come vedete, noi avremo due immagini assolutamente in questo momento identiche con lo stesso template all'interno. Andiamo velocemente a scegliere due foto veramente, veramente a caso solo per farvi vedere come funziona. Quando voi andrete a fare scarica ovviamente facciamo PNG qua sotto vi chiederà se volete scaricare tutte le pagine o solo alcune in questo caso noi lasciamo tutte le pagine facciamo scarica e lui in automatico ci scaricherà le due immagini. In questo caso lui le scarica come un archivio zip giustamente ma basterà aprire quel file lì all'interno di quel file zip troverete le vostre due immagini. Ora siamo tornati un attimino a un page vediamo un altro pochino di cose aggiuntive cose assolutamente non indispensabili. qui come abbiamo già visto qua ci sono gli ultimi progetti su cui abbiamo lavorato in questo momento oppure clicchiamo qua a sinistra su tutti i tuoi progetti in questo modo qua vedrete tutti i progetti che avete carichato all'interno del vostro account. Modelli simili a quello che abbiamo già visto prima quindi sono modelli già preimpostati in dei vari formati per i vari social quindi post di facebook storie di instagram come vedete con dei testi già dentro ora molte immagini sono sul distanziamento sociale in quanto siamo a fine maggio quindi siamo appena usciti da lockdown problemi eccetera post di instagram copertina di facebook volantini presentazioni adesso andiamo un attimo a vedere anche le presentazioni anteprime di youtube poi in realtà qui non mi fa più scorrere ma scrivendo qua oppure anche scorrendo qua per esempio biglietti da visita collage di foto semplici inviti brochure quelle pieghevoli si può fare un curriculum che non sia magari classico curriculum che è anche un po' bruttino da vedere infografiche ci sono tantissimi template infografiche che sono veramente molto molto carini come vedete potete creare pressoché qualsiasi cosa tutti quelli che vedete qui sono assolutamente gratis ora torniamo un attimo indietro e vi voglio far vedere qualcosa in più sulle presentazioni ovviamente in maniera molto molto semplice ne apriamo una completamente a caso qua ci fa vedere le varie slide che sono già state create quindi che qualcuno ha già creato ovviamente lo staff di Canva ha già creato vi fa un'anteprima della tavolozza di colori che c'è vi fa mettere un po' di tag su che cosa sono per esempio marketing toys insomma varie varie tag per un po' trovare questa presentazione qua possiamo fare utilizza questo modello Canva aprirà un'altra tabella e come vedete qua scorrendo anche sotto ci sono tutte le slide come sono già state fatte quindi vi piaceva questo modello qui molto semplicemente esattamente come avete fatto fino adesso come vedete sono tutte quante oggetti che voi potete muovere potete entrare modificare i testi in questa qui potete modificare le immagini quindi andiamo qua in foto come vedete Canva è assolutamente semplice semplicemente una volta che ci avete preso la mano sarete molto più bravi anche di me perché io lo utilizzo molto poco in realtà Canva io utilizzo Photoshop e Illustrator principalmente come vedete potete inserire le immagini qua dentro potreste volendo anche cancellarla cancelliamo anche questo perché non ci piaceva come era la cornice di quella foto quindi torniamo in elementi inseriamo quella cornice qua per esempio torniamo in foto e ce la mettiamo dentro come vedete è estremamente semplice tutto drag and drop potete modificare come primi colori per esempio di questo non ci piace questo colore lo facciamo azzurro mettiamo l'espressione nera come vedete è estremamente estremamente semplice una volta che avete modificato tutta la vostra presentazione potete fare o presenta quindi lui in automatico all'interno di Canva esattamente come se foste in powerpoint e faceste avvia presentazione vi va a schermo intero e voi con le tastiera potete andare avanti tra le varie slide nelle slide potete mettere anche animazioni funzionano assolutamente oppure qui sulla freccina la potete scaricare come vedete ci sono vari modi in cui la potete scaricare la potete incorporare sul vostro sito web classico formato microsoft powerpoint se fate scarica potete scaricare addirittura anche le singole slide in pdf in jpeg in png e tantissimi altri formati potete scegliere se scaricarle tutte o se scaricarne solo alcune come vedete è estremamente estremamente semplice c'è in realtà molto poco da da spiegare tutto è esperienza vi mettete davanti fate un po' di immagini vedrete che molto velocemente imparerete a utilizzarlo veramente veramente bene torniamo in home page perché andiamo a vedere velocemente gli ultimi moduli che abbiamo un attimo ignorato ovvero musica video eccetera il video sta venendo un po' lungo ma comunque è un tutorial il video sta venendo un po' lungo ma comunque considerate che è un tutorial praticamente assolutamente completo di canva visto veramente veramente dicendo tutto non c'è niente di nascosto è veramente molto molto semplice facciamo un nuovo progetto facciamolo per esempio a dimensioni personalizzate che in realtà non sono neanche personalizzate perché è 1920x1080 quindi la classica proporzione di un video in hd in full hd scusate come vedete più più lo scorrete più vengono fuori dei template assolutamente diversi quindi avete veramente veramente anche che dice che senza fantasia come vedete qui ci sono centinaia e centinaia di migliaia di modelli comunque utilizzabili e personalizzabili andiamo un attimo allora in video per esempio qui ci sono dei video stock quindi video che voi potete utilizzare esattamente come le foto come vedete qui gratis gratis eccetera se ci passate sopra col mouse vi da una piccola anteprima e come prima qui se andate a cercare ovviamente ci sono anche video a pagamento video a pagamento cerchiamo per esempio il nostro caffè immancabile ormai a questo punto del video come prima trascinate dentro e il vostro video è qua cosa possiamo fare? ci possiamo aggiungere dei testi in ogni punto ovviamente in questo caso noi abbiamo inserito il video di sfondo se andate a modificare il video va leggermente in pausa ovviamente anche per non stressare troppo il vostro computer possiamo aggiungere elementi cerchiamo sempre caffè xa caffè xa caffè non è niente caffè una cosa del genere per tornare in play basterà qui in alto a destra cliccare play molto molto semplice anche con i video i video potete metterli assolutamente dentro anche ai collage come questi quindi possiamo scegliamone uno dove magari possiamo giocare un po' tra foto e video inseriamo per esempio questo scegliamo questo video adesso sto importando veramente a caso e nessuno ci vieta di mettere qui a destra non so una una foto con le foto ovviamente come prima lo possiamo modificare lo potete fare anche con i video quindi doppio clic e lo spostate potete andare in play con i singoli video come prima oppure se volete andare in play con tutto come prima qua fate play naturalmente non tutti i video dureranno uguale in questo caso tutta la clip dura un minuto zero sette perché il video più lungo dura un minuto zero sette però come vedete in questo caso questa qui si è interrotta adesso si è interrotta anche questa come ovviare a questa cosa ci sono ovviamente vari modi quindi questa clip in questo momento sta durando un minuto e sette ovviamente assolutamente inutile per un po' social del genere un minuto e sette di video quindi adesso andiamo a vedere come possiamo tagliarlo andiamo per esempio in quella che sappiamo che è la nostra clip più lunga ovvero questa e facciamo accorcia in questa barra oltre ad andare in play come vedete qua viene mostrato tutto il video in questo caso è un video abbastanza monotono quindi non vedete esattamente cosa cosa c'è ma se voi prendete destra e sinistra come vedete questi due trascinatori per esempio noi vogliamo farlo durare 5 secondi lui prenderà solo questo spezzettone qua di video possiamo spostare la nostra selezione nei nostri 5 secondi lungo tutto il video per prendere esattamente il momento che volevamo una volta fatto facciamo ovviamente fatto come vedete già dura semplicemente 13 secondi perché ora c'è un'altra clip che dura di più di quello che ci serve facciamo la stessa cosa anche qui con i chicchi di caffè facciamo accorcia mettiamo anche qui 5 secondi tonde come vedete potete tagliare sia a destra che a sinistra qui vi da la durata totale e poi potete spostarlo facciamo fatto adesso dura 10 secondi perché questa è ancora più lunga quindi accorcia e lo accorciamo anche questo a 5 secondi fatto come vedete ora dura tutto 5 secondi all'interno di queste grafiche esattamente come facevate prima possiamo ridimensionare tutto come vedete lui un po' ridimensiona un po' come vuole in un certo senso l'immagine e il video ma comunque voi siete sempre liberi di andare dentro e ridimensionarlo spostandolo eccetera come volete voi il discorso del download esattamente come prima qua si può scaricare video in mp4 ovviamente fate scarica e il vostro video verrà elaborato e scaricato si possono aggiungere cose al video per esempio musica anche qui ci sono tantissime canzoni assolutamente gratuite come vedete ci sono per esempio anche dei tag con scritto youtube tutto quello che ovviamente è gratis come facciamo a sapere che questa canzone qua la possiamo utilizzare per il nostro video in che modo la possiamo utilizzare ora non andrò nello specifico di come funziona il copyright comunque tre puntini qua come vedete è gratis se andiamo sulla i ci dicono qualcosa di più puoi usare questa canzone per scoppi personali e commerciali senza attribuzione nel rispetto dei termini della licenza in poche parole potete utilizzare questa canzone sia per scoppi personali quindi volete fare il vostro video da condividere sui vostri social con i vostri amici oppure anche per la vostra attività ora andiamo a cercare qualcosa di diverso ora non so se lo troverò ci sono comunque delle canzoni che a livello commerciale non si possono utilizzare ok in questo caso non me le dà comunque qui anche qui vale il discorso di prima ci sono come vedete delle canzoni che sono pro in questo caso le canzoni costano 3 euro l'una se non avete l'abbonamento se avete l'abbonamento sono ovviamente tutte quante incluse qui vi fa vedere la vostra canzone che avete già inserito qua potete regolarne il volume la potete cancellare eccetera eccetera oppure spostare se per esempio volete questo pezzo qui della canzone ovviamente lui già sa che la clip dura 5 secondi e ovviamente vi selezionerà solo 5 secondi di canzone alla volta per scaricarlo esattamente come prima un altro paio di cose del volo qua c'è per esempio ovviamente abbiamo già visto caricamenti dove possiamo caricarle le nostre immagini o i nostri video cartelle poi possiamo creare delle cartelle di prodotti che abbiamo acquistato quindi al caso voi acquistaste prodotti potete fare cartelle di prodotti che vi sono piaciuti quindi per esempio questa foto qua io faccio qua aggiungi ai miei piace se vado qui in cartella like la trovo per creare delle cartelle se avete veramente tante immagini da organizzare eccetera è disponibile solo nella versione pro in altro vi si apre un altro mondo completamente intero oltre ai grafici che adesso andiamo velocemente a vedere su canva ci sono veramente un'infinità di applicazioni che potete collegare per dare effetti alle immagini per inserire gif che vedete c'è anche gifi che si sta applicando tanti si sta abbinando tanti software adesso specialmente facebook instagram eccetera perché è stata acquistata da facebook e instagram ci sono le classiche emoji quindi le classiche emoticon da 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 chat come vedete la potete inserire la potete ridimensionare potete cambiare i colori cosa che non potete fare per esempio su smartphone qua invece la potete fare ora andiamo a cancellare un attimo tutto quanto tutto 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 voglio cancellare ok andiamo per ultimo a vedere grafici se per caso dovete inserire qualcosa come vedete graficamente non ce ne sono un milione esattamente come le immagini però per esempio mettiamo questo grafico e esattamente come funziona in excel questa cosa probabilmente sarà utile semplicemente se voi fate delle presentazioni difficili che utilizziate o magari delle infografiche ma dipende come vedete molto semplicemente esattamente come si fa per esempio in excel per fare tabelle qua si può fare il nome che c'è scritto sopra uno due eccetera si possono mettere i vari valori potete cancellarli togliere per esempio mettiamo che io voglio soltanto un grafico per esempio dei mesi ho sbagliato tre quattro cinque questo è un grafico di crescita insomma i dati che c'è inserita potete ovviamente inserire qualsiasi cosa inserite in un qualsiasi grafico potete cambiare ovviamente i colori ed è molto basilare quindi anche questo qui lo potete aggiungere alle vostre presentazioni che create all'interno di Canva ora direi che per questo video potrebbe essere tutto vi ho spiegato veramente tante cose di Canva come vedete è estremamente semplice dopo un po' non c'è neanche più bisogno che guardiate delle guide perché semplicemente ci prenderete la mano e ci prenderete l'occhio per fare le vostre immagini questa tipologia di video solitamente noi la utilizziamo per i nostri clienti che si vogliono gestire in modo autonomo i social quindi per esempio noi gestiamo le campagne e loro in modo autonomo per esempio si gestiscono tutti quelli che sono i post giornalieri da mettere sulla pagina ho comunque voluto rendere questo video pubblico se volete portare online la vostra piccola attività anche solo a livello locale e volete altre informazioni vi consiglio di andare sul mio sito cesaneandrea.com e di iscrivervi alla sezione corsi dove c'è scritto online marketing per principianti oltre che il corso completo troverete comunque anche tantissimo altro materiale gratuito che vi verrà inviato nel tempo per email per questo video è tutto scrivetemi nei commenti se avete avuto dei problemi se invece Canva vi piace se riuscite ad utilizzarlo se avete alzato il vostro livello medio di grafica a livello dei post e iscrivetevi al canale per altri video come questo video comunque inerenti a quello che può essere il qualche modo portare la tua attività online infatti la finalità di questi video non è semplicemente per fare belle foto con gli amici ma ovviamente per creare delle foto per le nostre piccole e medie attività io sono Cesa e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti